Eccola là, le braccia al cielo come Vania Milinkovic-Savic, eccolo là, su rigore, visto, ta 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 ta, gol di vere due, stai anche zitto, grande Vania, che sei un grande, Milinkovic-Savic, la Roma che vince con il Torino nonostante un arbitraggio scandaloso, condizionato da un'espulsione netta, doppio giallo netto, primo fallo assassino su Mkhitaryan giallo, il secondo con i tacchetti, sul piede di Spinazzola che sta rinviando tacchetti, tacchetti sul piede di Spinazzola, compagnoni e marchigiani tutta la partita a dire episodio che farò discutere, episodio che farò discutere e ci siamo pappati tutta la partita con l'arbitro che ha dato tutti i falletti, le cassette, le cose, tutto il secondo tempo in favore del Torino, senza dimenticare che Bremer non è stato ammonito per il fallo da rigore su Giacomo, nonostante ok non fosse rosso perché era un fallo genuino a provare a prendere la valla, perfetto, non è stato neanche ammonito, nonostante manca il secondo giallo allianco per fallo su Borca Maioralla al secondo tempo e marchigiani e cosa? Non hanno neanche preferito parole ai compagnoni, perfetto, marchigiani oggi integrano, è stato incredibilmente uno schifo, comunque detto questo, la partita è stata condizionata da Zingo, che ha pensato bene di entrare con i tacchetti sul piede di Spinazzola che stava rinviando, fallo che ti può rompere il piede perché se Spinazzola mette forza si rompe il piede, con i tacchetti di ferro sul collo del piede fa male, fa male, si è buttato fuori, la Roma il primo tempo poteva fare credo 6-7 gol, dopodiché il secondo tempo abbiamo avuto un momento di calo quando? Quando loro hanno fatto il gol del 3-1 su incertezza di Paolo Lopez perché non si può avere paura dei bagni e se le prende con la palla, gol fortunoso, mi sento dire che gli episodi hanno girato a favore della Roma, no, compagnoni marchigiani gli episodi non hanno girato a favore della Roma perché è vero che il Torino ha avuto qualche occasione per segnare dopo il gol che ha fatto il 3-1, ma la Roma ne poteva fare 6 il primo tempo e qualche altro anche il secondo perché poi l'occasione di Borca Maiorale, l'occasione di qua, l'occasione di là, quello sfragliato, nessuno gliene frega niente, perfetto, la Roma oggi vince, non mi sono piaciuti tanti calciatori, su tutti i pellegrini che incredibilmente marchigiani ha inserito tra i migliori 4 sky perché si danno le cose a cazzo, perfetto, pellegrini oggi ha fatto una partita da 4-4 e mezzo, se non fosse chi ha tirato una grandissima sassata sotto un incrocio, gran gol, doveva farne un altro prima, tra i tanti gol che la Roma si è mangiato, quel passaggio di pellegrini che non so chi l'ha data, forse addirittura il difensore da solo al centro dell'area, per non parlare di Spinazzola che tira al primo tempo e esce da un soffio, per non parlare di Bruno Perez che sul dischetto dell'area di rigore liscia il pallone, tante altre situazioni che la Roma si è mangiata, Michi D'Ariana, Minico Stavic, il portiere, ha avuto tutte queste palle rimpallate che arrivavano a loro, abbiamo avuto tantissime altre occasioni, ma comunque non mi è piaciuto pellegrini, non mi è piaciuto pellegrini, Villar ha fatto una grandissima partita e quando è uscito abbiamo perso il senso e il ritmo lì al centrocampo, Calafiore è entrato male da 4 e mezzo, malissimo anche Pedro da 4, Borca Maggiurale doveva fare meglio anche lui da 5 perché si è mangiato tutto, Dzeko ha giocato male, e ci sono fatta per i rigori che si è conquistato, ma Dzeko ha giocato male perché non ha giocato bene, ha giocato bene il solito Mighitare, la Roma è imprescindibile a Mighitare, Spinazzola che sulla sinistra va a 3.000, poi accelera, 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 per rispondere a un commento di esame che mi ha fatto su Instagram, dici rallenta, no non è che rallenta, che te aspetta gli altri, perché all'interno della rigore non c'è nessuno, non è che stiamo parlando di gente che accompagna la squadra a una certa velocità, nel momento in cui Spinazzola ti brucia, perché attualmente Spinazzola ti brucia, il giocatore più in forma, dal punto di vista delico, incredibilmente, era quando l'hanno messo in discussione all'Inter, non è mai stato così bene, ha anche cambiato il bite, ha cambiato la questione dei denti, l'ha detto anche lui, e sa veramente una forma straordinaria, entrano Calafiori, Calafiori deve ancora formarsi, abbiamo visto, rinnova un milione e mezzo, un milione e due, perché ha segnato quel bellissimo gol, oggi è arrivato e sembrava un bambino, l'hanno sdraiato 3-4 volte, in difesa mi sono piaciuri i Bagnez e Smalling, nonostante Smalling sia stato messo in difficoltà a una grande prestazione di Belotti, secondo me, ma comunque si è stato sempre lì sul peso, non è mai intervenuto, perché si capiva che l'arbitraggio stava aspettando il là per fare che cosa, per compensare non si sa che cosa, come se fosse colpa nostra che Singo è entrato e ha fatto due entrate da giallo, senza menzionare i falli di Lukic, a 1 minuto e 20 di partita, se avrei visto la partita, a 1 minuto e 20 il torino aveva fatto tre falli, di cui due erano d'ammunizione, uno su Veretout, gli è entrato con i tacchetti sulla caviglia, lo stesso identico fallo di Calafiori nel finale che ha portato al giallo, e uno su Villar che è stato steso a 40 secondi e a 1 minuto e 20, quindi stiamo parlando di due falli che dovevano portare l'ammunizione di Lukic, doppia, in 1 minuto e 20 sarebbe stato il record del mondo, ma va bene, va benissimo, con questo ho concluso ragazzi, anche oggi grandissimo arbitraggio, attesivamente al fatto non è che minamento solo quando perdiamo, minamento anche quando vinciamo, quando io vedo degli arbitraggi che non hanno assolutamente un senso, comunque la Roma ha abbassato un po' la concentrazione, poteva fare meglio, sicuramente dopo il 3-0 abbiamo un po' mollato, il Torino comunque è una squadra che secondo me ha delle qualità, non merita di stare lì assolutamente, forse è stato un po' sfortunato che viene adesso in campionato, non lo so, diciamo che mi interessa anche abbastanza relativamente, ciao a te e ciao a tutti quanti!